Siamo arrivati all'ultimo speech e quindi chiamiamo sul palco insieme a noi Matteo Penazzi. Eccolo. Ciao Matteo. Benvenuto. Tu ci parli di come smettere di lavorare dal divano. Infatti non mi sembra sul divano in questo momento. E vi farò vedere presto il mio nuovo offizio. Il divano su del co-working. Ti lasciamo subito la parola. Ciao carissimi freelance. Mi sento circondato da gente veramente pro, ma all'ultimo freelance camp ho incontrato anche chi ha aperto partita IVA da poco. Io ho aperto partita IVA da tre anni e mi sono proprio fermato ultimamente a tirare un po' alle fila, non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista di efficientizzare tutti i processi, i lavori, la comunicazione. Allora vorrei condividere alcuni strumenti che ho trovato, anche se magari molti li hanno già trovati, e che fondamentalmente mi aiutano ogni volta a che rischio il burnout. Che all'inizio era una cosa più quotidiana, adesso magari è una cosa su base settimanale. Allora andiamo subito alla prima slide, a partire dal luogo. Pensatemi, ci sono voluti tre anni per smettere di lavorare su quel bellissimo divano del 92, che vedete nella foto a sinistra, e chiedere al mio portofoglio di relazioni chi mi potesse concedere uno spazio. Ero, tra l'altro, disposto a pagare un affitto, eccetera, e è saltato fuori che, non so, si vede che sono simpatico, non saprei. Ho questa big room eccezionale, così, e sono molto grato di questo. È uno spazio dove mi posso concentrare, o fare binging di progetti, rispondere a chiamate, mandare mail, e una volta che vado a casa non rispondo più a mail, non le guardo. Come stile di vita ho bloccato le mie mail sul telefono, così che, sai, poi scappa sempre il WhatsApp. Però almeno iniziare a dividere l'ambiente lavoro dall'ambiente casa, se così vogliamo chiamarlo. E questo è la slide del tracking. Vedete che dopo tre anni in cui mi sono... Ho fatto di tutto, mi sono fermato a dire, aspetta un attimo, ma questo qui, questo cliente mi chiede un sacco di cose, ma io quanto sto prendendo all'ora da questo cliente? Nel senso che lavoro in un ambito culturale dove non esiste la tariffa oraria, o se esiste, ditemelo, che sono curioso di sapere come fate. Non esiste una tariffa oraria, esiste una tariffa progetto, no? Qui vedete dati facsimili, dove per un progetto uno, chiamiamolo progetto uno, si prende mille euro lordi ogni quattro settimane, che mi piace un sacco, anziché parlare di mese. Per il progetto due, io seguo due progetti, ho messo un'altra cifra di riferimento, mille, quindi totale fatturato nelle due settimane, duemila. Questo è uno schemino che mi sono fatto io, che se ci pensate è molto semplice, ma che serve a me, su base settimanale, poi raccogliendo i dati mensili, per capire quanto vale il mio tempo e se dopo 6-12 mesi devo rinegoziare, se invece devo essere pronto a fare di più perché mi hanno chiesto molto di meno. Quindi, ripeto, cifre facsimili, comunque le ore, ad esempio, invece sono veritiere, le ho tracciate su un foglio a quattro bianco, lo faccio su base giornaliera e poi riporto tutto. Questo per me è molto, molto, molto sano. Ripeto, mi sono trovato ad affrontare task estremamente pungenti e brutte, che mi sembrava di metterci dieci ore, in verità erano passati i trenta minuti. Quindi a me serve un po' a lasciare sedere un po' le emozioni, lo stress che c'è e capire oggettivamente quanto ci sto mettendo. Ripeto, l'ambito culturale è un ambito estremamente fluido, spesso si lavora, si fa un bando, va bene, non va bene, molti non vanno bene, quindi si è lavorato per qualcosa di potenziale. Quindi questo è uno schimino che a me serve molto. Andiamo avanti sulla crisi del lunedì. Ora, non so chi di voi si trovi ad affrontare la crisi del lunedì, io la chiamo così, siccome non riesco a fare certe task nella settimana precedente, io spontaneamente le riposiziono tutte sul lunedì. Cosa peggiore? Perché poi lunedì mi ritrovo a fare tutte le cose programmate la settimana, il venerdì precedente. E cosa succede? Che sì, mi metto a farle, poi magari lascio il telefono acceso, succedono cose, ti chiamano e si inseriscono task urgenti che fondamentalmente portano solo dello stress. Quindi dopo ben tre anni, ho pensato di ridistribuire le task nella settimana in maniera dolce, cioè su un po' lunedì, magari pomeriggio, così lunedì mattina mi becco tutte le chiamate che fanno partire la settimana, e poi un po' il martedì, un po' il mercoledì, e poi il resto lo tengo vuoto, così programmo tutto quello che arriva il lunedì e di conseguenza. Quindi ridistribuire le task anche io uso Todoist è fantastico, soprattutto per non chiamarsi tra colleghi, ma abituarsi a queste best practice di guardare, che uno sa che deve guardare quel posto lì, tutti i giorni, ogni settimana, con una certa cadenza. Quindi dovete immaginare che in questi tre anni la mia vita da freelance era totalmente selvaggia, immaginate che giungla è stata, senza sapere quanto ore lavoravo, lavorando in casa, senza ottimizzare i tempi, senza programmare seriamente, e non so, magari tutti ci sono passati, ecco. Comunque andiamo avanti. Dopo la crisi del lunedì, comunque questa ridistribuzione delle task sulla settimana non è che mi risolve la vita. Quindi per prevenire il burnout, e oltre a programmare prima, come dicevo prima, ci sono queste procedure ricorrenti, per cui ad esempio io il primo del mese fatturo, il 5 del mese ricevo molte proposte artistiche che devo visionare, eccetera, le butto tutte su una sottocasella di posta, il 5 del mese me le guardo, il 15 del mese guardo l'amministrazione di uno dei miei progetti e tengo l'archiviazione, e poi non mi ricordo qualtri altri flussi ho scritto, comunque anche qui prevenire la giungla selvaggia, delle cose da fare, e soprattutto ho questa tendenza a voler fare tutto subito, e se non faccio tutto subito io non sto bene, tendo a dire ok, io posso essere sereno, un freelance felice, solo quando ho finito tutte le tasche. In verità, nel mio ambito, come anche in altri, non muore nessuno, perché non opero d'urgenza, quindi anche dirmi che se non faccio certe cose entro oggi, non muore nessuno, semplicemente riprogrammo, e mi ricordo che lavoro comunque in un ambito culturale, se il cliente è soddisfatto e non ci sono scadenze particolari, allora posso essere sereno. E un'altra cosa che uso per prevenire il burnout, soprattutto dal binging, dal sovraffollamento di sette caselle di posta, tre telefoni, che poi ho cercato di far diventare due, ma a volte ritornano tre, quindi per prevenire il burnout in questo caso, a volte uso il super bonus che è sparire, mettere tutto in modalità aereo, e mi concentro, mi connetto con quello che devo fare e capisco che magari dopo cinque ore che ho usato il flight mode non mi ha chiamato nessuno, non ero essenziale alla vita di nessuno, però magari mi ritrovo trentadue mail e quindi dopo le devo gestire, però almeno le gestisco tutte insieme. l'altra cosa che sto cercando di fare sempre di più dopo questi miei primi tre anni da freelance è fermarmi a pensare, cioè vedo come appunto con sette account di posta elettronica tutte le task, i molti progetti per cui lavoro, i vari clienti, la vita personale, il rischio è di non fermarmi e perdere la visione e la prospettiva e quindi ho iniziato a fermarmi e innanzitutto nei momenti in cui sto facendo, stavo facendo cose che non mi piace fare o che non sono portato a fare ad esempio io sono più bravo a scrivere un progetto che non ad amministrarlo voglio dire posso essere bravo a fare entrambi ma sono più portato a sviluppare la visione a tessere le reti a scrivere i testi per i finanziamenti europei, regionali, comunali, eccetera quindi perché devo passare la mia vita a fare la prima nota allora di lì prendere la decisione trovare le risorse per avere un collaboratore o collaboratrice a cui affidare a cui delegare con cui collaborare e questo è sempre successo nel freelance camp recentemente e sono molto grato cosa non voglio più fare ecco appunto decidere cosa non voglio più fare però decidere anche chi può farlo per me cosa voglio continuare a fare quindi spendere più tempo coltivare più le relazioni che mi permettono di ad esempio far fundraising in cui sono molto bravo quindi sto spendendo tempo per incontrare potenziali partner per fare iniziative di rappresentanza no? ok allora cassare certe task delegarle e programmare più rappresentanza più incontri che magari si trasformano in sostenibilità per i miei progetti visione prospettiva chiaramente viene da fermarmi a pensare non solo sul progetto che sto affrontando ad esempio sto lavorando per una fondazione con un progetto nel sud-est asiatico quindi sì dove vogliamo arrivare con questo progetto che dura un anno cosa ci porterà fra un anno come saranno le relazioni con i partner fra un anno come le manterremo ma anche io come freelance la visione è su di me ora certa gente mi ha sempre chiesto come ti vedi fra dieci anni io non so come mi vedo fra dieci anni però magari un ragionamento su base annuale a fine agosto settembre si può fare così ho fatto questo quest'estate avevo sentito un talk che diceva ma tu quanto vuoi lavorare in un anno e ho pensato che non voglio lavorare undici mesi vorrei lavorare un po' meno allora ne ho approfittato mi sono forzato ho comprato dei biglietti ho fatto l'interrail ci ho messo un aereo sono andato da un'altra parte alla fine mi sono fatto un mese e mezzo ogni tanto guardavo la mail facevo chiamate chiaramente di rito di lavoro però in questo mese e mezzo ho potuto viaggiare incontrare vecchi amici incontrare persone partecipare a iniziative di stimolo e mi sono fatto due domande sul mio anno da freelance quindi ok per chi lavoro quest'anno io ho sempre anche insegnato alle scuole medie suonato in violino perché poi mi sono diplomato lì quindi mi porto dietro molti bagagli e questo è stato il primo anno dove ho detto dei no molto grandi tra cui quello a una scuola e pensate che appena ho detto di no a una scuola mi hanno chiamato altre tre scuole molto molto valide cioè quello che tutti vorrebbero desiderare una scuola vicina con i bravi colleghi un ambiente educativo bello qualsiasi cosa insomma ho detto il primo no e poi mi hanno chiamato altre tre scuole ho detto altri tre no e quindi ho deciso di fare il freelance a tempo pieno e mi sono fermato quindi in questo mezzo di viaggio ho pensato cosa voglio fare quest'anno voglio strippare andare in burnout tutti i giorni perché faccio cinque lavori o voglio avere due barattra clienti e magari un po' di tempo libero nei weekend e con questo concludo il mio talk grazie a tutti per l'ascolto questi sono i miei contatti semplicemente mail ecco eccolo ciao grazie Matteo sì io la cosa che voglio fare è cominciare a lavorare in giro per l'Italia o per l'Europa che magari lavorare un po' meno perché ovviamente se sono a Venezia o a Firenze o da qualche altra o a Berlino non è che tu puoi fare 40 ore la settimana ma me ne vado anche in giro però effettivamente questo è un progetto e solo hai ragione sono cose che devi fermarti ogni tanto e pianificarle non è che le improvvisi esatto esatto sì fermarmi per me è stato essenziale e anche ascoltare tutte le esperienze degli altri freelance perché queste sono cose che poi sono venute ascoltando le testimonianze degli altri bene grazie di nuovo grazie a tutti grazie a tutti